La squadra mobile dell'Aquila ha arrestato tre cittadini nigeriani, mentre altri due si stanno ancora cercando. Per tutti c'è l'ordinanza di custodia cautelare, responsabile di lesioni in rapina aggravata in concorso ai danni di un connazionale. L'operazione è stata chiamata Betting Robber, una rapina violenta, premeditata, avvenuta a fine ottobre dopo la vincita della vittima di circa 5.000 euro in una sala scommessa e cittadina. Colto di sorpresa dai suoi aggressori, mentre passeggiava per strada, aveva con sé solo 2.000 euro. La restante parte della cifra doveva essere ancora ritirata. I malviventi gli avevano distrutto anche il cellulare per non fargli chiamare aiuto. Poi, la svolta, arriva la richiesta della vittima alle volanti, dirette dal dottor Roberto Mariani, che ha riconosciuto gli aggressori mentre si trovava nel piazzale del centro commerciale La Meridiana. Già aveva fatto una prima denuncia, comunque. Il 23enne nigeriano, ritenuto il capo della banda che aveva organizzato la rapina, era venuto a conoscenza di questa vincita, disponendo l'aggressione. Si tratta di una persona già indagata, come appartenente all'associazione mafiosa disarticolata il mese scorso, con l'operazione Hello Bross. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati dal dottor Danilo Di Laura, nuovo dirigente della squadra mobile che si è appena insediato. All'aggressione, tra le altre cose, aveva assistito un amico della persona offesa, che aveva tentato in vano di allontanare gli aggressori. Per il solo fatto di aver preso le difese del connazionale, la stessa sera della rapina, gli aggressori si erano introdotti in casa sua, colpendolo con una bottiglia e malmenandolo selvaggiamente. Alcuni degli aggressori sono richiedenti asilo, tutti giovanissimi che residevano all'Aquila, sia strutture di accoglienza che presso amici, compresa la vittima, che ha solo 25 anni. Questa vincita gli è costata cara, appunto, perché i repinatori lo sono venuti a sapere e hanno deciso, premeditando, di fare un agguato per poter ottenere la sua vincita. Purtroppo ha avuto la peggio al momento e quindi i repinatori poi si sono dileguati. Non solo, ma siccome conoscevano anche un testimone che era venuto al soccorso della vittima, hanno deciso di imporre la loro forza intimidatrice, perché uno di loro appartenente comunque sia a questa banda che è stata disarticolata all'Aquila, e quindi hanno deciso di minacciarlo, oltre che di picchiarlo brutalmente, per evitare che denunciasse. Tre sono stati arrestati e due li state ancora cercando? Sì, esattamente. Due non sappiamo ancora di preciso dove poterli rintracciare, in quanto questi soggetti spesso non hanno una dimora fissa e quindi stiamo protraendo le nostre ricerche che probabilmente si proseguiranno anche all'estero. Dottore, questa è anche la prima operazione sua di fatto da quando ha assunto la dirigenza della squadra mobile? L'Aquila è un territorio non solo vasto, ma sicuramente molto interessante, dove c'è un humus, sicuramente c'è parecchia possibilità di lavorare.